ciao a tutti oggi per la merenda dei bambini voglio preparare una soffice e golosa ciambella al nesquick allora in una terrina vado a versare 3 uova che ho già sbucciato e 150 grammi di zucchero e oggi utilizzo a metà zucchero di canna e metà zucchero bianco molto con le fruste elettriche per qualche minuto poi vado ad aggiungere a filo 100 ml di olio di semi di girasole 280 grammi di farina in questo caso uso la farina della char mix it è già setacciata alterno con 150 ml di latte vado ad aggiungere anche 100 grammi di nesquick e una bustina di lievito per dolci qui uno salbo per ciambella imburrato e infarinato adesso vado a versare all'interno il composto e adesso la faccio cuocere in forno caldo e preriscaldato a 180 gradi il mio forno funziona solo in modalità ventilato la faccio cuocere per circa 35 40 minuti vale sempre la prova a stecchino a dopo ed eccola qui la ciambella è pronta lo lasciate raffreddare adesso la decoro con un po di zucchero a velo taglio una fettina così vi faccio vedere come l'interno spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta provatela e fatemi sapere cosa ne pensate a presto con un nuovo video ciao a tutti e adesso questa la porta i miei bambini a presto